Abbiamo costituito questo comitato perché vogliamo capire che intenzione ha questa amministrazione comunale che vuole fare questo eco mostro a casa nostra perché noi abitiamo in quella zona quindi siamo molto preoccupati per quello che si fa, visto che il nostro sindaco comunque in campagna elettorale aveva espressamente detto che non si faceva e invece ora è uscito. Noi abbiamo costituito questo comitato, io mi sono documentato perché mi batto sempre per le periferie, mi sono documentato e ho visto veramente parecchi aspetti negativi che ne possono derivare. L'amministrazione giustamente essendo chi lo propone dice gli aspetti positivi e noi vogliamo anche capire quali sono gli aspetti negativi. E quindi questo comitato è nato per cercare di costruire un referendum per far parlare anche la gente del posto cioè la gente che è coinvolta ha bisogno e ha voglia di dire sì o no se lo vuole o meno. Quindi come comitato stiamo facendo diversi incontri dove informeremo con dei tecnici la gente e informeremo anche degli aspetti negativi che a mio avviso sono molto superiori rispetto agli aspetti positivi. Da residenti che cosa vi preoccupa? Sono molto preoccupata perché se fanno questo digestore anaerobico sarà completamente tutto inquinato, rilasceranno dei gas serra e dell'ammoniaca che a lungo andare provocherà dei cancri o deformazioni delle nascite. Quindi questa è la preoccupazione maggiore. Qual è il prossimo incontro che farete? Ne faremo uno a Cucurano, mi sembra il 2 dicembre, e poi a Rosciano. Chiediamo di raccogliere le firme per proporre questo referendum e poi si vedrà. Più siamo e più facciamo rumore.